Perché Rampart? Perché ho fatto una partita con i random, mi hanno rubato Octane, ho usato Rampart e mi ha fatto eccitare. E quindi qui oggi io riproverò a usare Rampart dopo una cosa come 6, 7, 8 mesi dall'ultima volta nel canale. Penso di averla letteralmente usata per il video di debutto della season 6 e dopo non l'ho più toccata. Quindi season 6, season 7, season 8, sono passate 3 season intere più un pezzo della 9. Madonna, quasi un anno. Fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate di Rampart, è una domanda un po' così però. Mi piace il video, iscrizione al canale e buona visione. Giocheremo una grande partita con Buga, noto pro player di Fortnite, e Dottor Tatratea, come si chiamava? Bel nome comunque, originale. Allora, let's go here. Carina la skill leggendaria Copper Rampart, presa tra l'altro al day 1 della season 6 e mai più usata. Mi pare di aver sentito gente. Mi pare o... non lo so. Forse no, forse sì. Arco Bocek, secondo me con Rampart tanta roba. Sarebbe da usare ovviamente le LMG. Allora, qua è lootato. Hanno lasciato una battery, completamente così. Ad cazzo, quindi io direi di non privarmene. E si inizia, si inizia... A piazzare. Questo è abbastanza inutile e ne abbiamo uno sopra. E invece? Abbastanza inutile, ma se il nemico ti si butta davanti non è più così tanto inutile. Mamma mia, come lasra. Oddio, mi hai fatto prendere un colpo, fra... No! Ok, non me l'hanno rotto. Mamma mia, Rampartina! No, ce l'ho sopra. Pure senza... Pure senza la... Barriera di Rampart. Si lasra. Il problema arriva adesso che ho dodici colpi. Volt? No. Flatline, mio. Qualcuno... Una delle due, per favore. Flatline, va bene. Andava bene pure il Volt, Flatline. Ci accontentiamo. La Spitfire è inutile dirlo con Rampart. Sarebbe. Sarebbe! La Spitfire con Rampart sarebbe, punto. E fu così che Nico si innamorò di Rampart completamente. Abbandonò Octane. E diventò la prima Rampart in Italia! Via, via, ciao! Così era... Lui era stato risparmiato. Dai! Ma sta qua. Perché? Per quale motivo? Ok. No! Fatemela finire, fatemela finire. Tu non hai visto niente. No! Allora, partita di riscaldamento andata? Non così bene. Ma è andata. Sapete, una cosa buona di Rampart è che non te la ruba nessuno. Octane, ultimamente, da dopo che l'hanno potenziato in season 7, è bello tosso da riuscire a prenderlo quando stai qui random. Innanzitutto è difficile trovare i random. Però, se hai il culo di trovarli, Octane, non dico che il 90% te lo rubano, ma è molto probabile. Mentre Rampart, poveretta, non se la caca nessuno. Allora, piazza Bonsai, centrale solare. Non sono io il Jumpmaster, quindi decide lui, decide lui. Ashib 2018, dall'alto dei suoi tre anni. No, perché? Qua lo so che va a finire malissimo. Oddio, 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 oddio. Tutti zitti, tutti calmi. R99. E corazza blu. Questo qua non scappa assolutamente. Lui ha trovato la corazza viola invece, pensate un po' voi. Madonna, hai fatto prendere un colpo. Ho finito i colpi, ho finito i colpi, ho finito i colpi. Aiutatemi, fate qualcosa. Confermatemelo. Confermatemelo. Aiutatemi, ragazzi. Dai. Kill leader. Dai. 35 colpi. Io direi di prepararci qua con Sheila. E che pushassero. Va bene. Fantastico. Oddio, cosa gli ho combinato? Oddio. Il recupero del banner prima. Dove sta? 10 secondi. No. Un altro team. Un altro team. Un altro full team. Alternator con la barriera di Rampart che ti dà quel feeling. Di perfora scudi che non fa mai male. Un'altra barrierina, vai. Fulliamoci. Siamo praticamente 1v3 perché gli altri sono dall'altra parte del mondo, quindi... Le precauzioni non sono mai troppe. E invece eravamo 1v1. Plot twist spettacolare. Guys, we have people over here. Ok, t'ho visto. 52 per colpo non ha la testa. Carino. Simpatico, simpatico. Perché sei viola? Perché sei viola? Perché? Quando sei diventato viola? Perché? Come? Quando? Non eri bluetooth, scusami. Ah, forse avevo colpito lui. Ok. Ora si è capito il misfatto. Mi dovrei curare. Volendo, eh. Ma ce la fate a colpirlo? Così. Volendo, eh. Volendo. Oh, Sheila! Voglio piazzare Sheila! Voglio piazzare Sheila! Dai, 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 dai! Dai, affacciati qua! Affacciati qua! Non lo farà, non lo farà, non lo farà mai. Allora, c'è uno che non lagga e poi c'è il laggone. Proprio lui. Il laggone per eccellenza. Che è codesto! Guardatelo qua! Che grande laggone! Non lo so, non lo so. Vabbè che mi ha fatto 25, però... Io, quando rischio di morire dalla gente che lagga in questo modo... Stanno qua, stanno qua, stanno qua. Knock di Wingman. Azzo! Azzo, pazzo, pazzo. Mazzo, ci sta a fare. Non so quanto effettivamente servirà, pure questa. Ok, bello. Dai, se non ci fosse questa rampa sarebbe tutto più bello. No! Che è sta roba? No, 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 no. Tu non hai capito, tu non ti resti. Ma io posso piazzare la barriera qua? No! Qua sotto sì però. Dai! Mmm! Mi puscia veramente? No che non mi puscia, ok. Perché non ho più un compagno? Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Perché non ho un compagno? Dov'è finito? Copertura amplificata per voi, colleghi. O no, non devo curarmi. Chi l'ha visto? Chiamate, chiamate chi l'ha visto? Dai, aprite la porta, aprite la porta. So che volete, so che volete. So che sei tentato. Tu però non fare così, tu non fare così. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivi. Dai, dai! Bellissimo! Non ci sto capendo niente. C'è sto qua che continua con sta cazzo di porta, ragazzi. Ecco qua, mi sa che ora con la porta non continui più. Eh, guardalo, guardalo come si nasconde. Guarda come scappa! Peccato. No, io direi di andare in safe, eh. L'obiettivo loro, più che altro, era recuperare il banner e mi sa che l'hanno fatto col totem, quindi... Ci troviamo contro tre. Io ancora devo capire che fine ha fatto un random mio, vi giuro. Ma è morto. È morto. O è crashato? Non è crashato, è morto. È morto e ha quittato. Non lo so. Tante domande. Poche risposte. Dammi... Anche il Prowler. Anche il Prowler non mi lamento. Prowler o Crabberino? Triple take. Facciamo che va bene uguale. Molto rischi, eh, col triple. Molto rischi. Però triple con le barriere. Madonna, sì, sì, sì. Assolutamente. Allora, guardate. Qua siamo in safe. Penso sia il posto migliore. Penso. Poi, libero di essere sorpreso, ma... Qua dovremmo essere messi abbastanza bene a regola. 56 colpi di triple. Immaginate se non mi avessero rotto la barriera. Immaginate se non mi avessero rotto la barriera. Quanto cavolo gli avrei fatto. 84, 28. Bello, bello. Proviamo a fare i 3K. Oddio. Un K danni tutto sull'ultimo team. La vedo dura, però... Allora, non abbiamo coperture, ma abbiamo... No, stai andando. La roccia è in safe. Sai che quella roccia è mezza interessante? Qua dietro mi sa che è meglio. Qua dietro è meglio, sì. Io mi piazzerei una barriera dietro che se mi pusciano da dietro ci sono. Una barriera qua per piccare che mi romperanno immediatamente tempo zero. Mamma mia, le tre ombre... Dominate. Le tre ombre dominate. Ma se mi colpisce posso usarla lo stesso. No, non ci vedo niente. Che brutto. Che brutto. No, non pushar da solo l'altro, però. Quello da solo non lo dobbiamo feitare. Quello da solo non lo dobbiamo feitare. Quello da solo è la nostra speranza per vincere. Non lo devi feitare. Cioè, non so se è chiaro. Non devi. Non devi assolutamente. Per nessun motivo al mondo. Per favore. La trollate. La trollate. Io vorrei capire perché pushare quello che sta da solo. Dai, pushate ora. Mi sa che questa scila è stata buttata, eh. Ve lo dico. Mi sa che questa scila è stata buttata. Non provate a scappare. Tornate subito qui o vi perdirete tutto il divertimento. No. 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 Non ci credo. Non ci credo. Tra l'altro, 10 kill. Quindi avrei concluso con 13. O forse qualcuna già me l'aveva fatta prima. Me l'aveva data prima. Non lo so. Però, peccato. Forse qualcuno l'è andata vicino a me. No, non è vero. Vugia. Allora. Al centro fightano. No, volevo stickarlo così portava lo stick dentro. Per quale motivo? Non so. È sceso uno con la mira puntata, minchia. Fatto da te. Un secondo. Devo curarla. Lancio una granata. Prevalo una copertura amplificata. Hittato uno. Blu, di granata. Poco. Cazzo. Crack, uno blu pure. Ah, un HP. Presa, presa. Altra era quasi crack. Madre, bastardo. No. Minchia, trollatino. Madonna. Mi ero bloccato là. Secondo me, comunque, il respawn portatile dovrebbero lasciarlo fisso al crafting. Perché le altre cose può pure avere senso che girino, ma il respawn portatile ti cambia troppo il gameplay averlo al crafting o no. Secondo me dovrebbe stare la fisso. Noccato uno. Full oro. Mamma mia. Ok. Mi piglio l'oro, mi sa, perché non ho niente di cura. Mi sta sparando. Vico a terra. Ricarico gli scudi. Es. Ma che forte era, in parte madonna. Davanti a me vola. Cioè, vola. Ci siamo capiti. E' andato qua sopra? 56 rosso. Vabbè. Direi niente chi lozza con... E devo dire che la sottovalutavo. Cioè, non pensavo mi potesse piacere così tanto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo in un prossimo video. . . . . . . . . Grazie per la visione!